A settembre aveva lanciato un appello attraverso i microfoni di Telemolise, 51 anni, disoccupata e uno sfratto esecutivo dalle case popolari della città. Dopo due mesi di disagi e sistemazioni di fortuna, anche in strada, l'emergenza di Maria è stata tamponata per quattro settimane, grazie alla solidarietà dell'artista Gio Bavota che sostiene il movimento Difesa del Cittadino. Noi non ci sostituiamo al Comune, perché il Comune ha un ruolo molto importante su questa vicenda e deve intervenire perché è l'unico ente che può realmente risolvere definitivamente il problema. Io sono un artista, canto e quello che posso fare è raccogliere fondi e dare questi fondi a questa associazione che si occupa di sociale. In questo caso siamo intervenuti direttamente per questa signora perché aveva bisogno di aiuto, non oggi ma ieri, e quindi io mi auguro che le istituzioni intervengano immediatamente per poter dare a questa signora una dignità, una casa. Io ringrazio sia Gio Bavota, al signor Donato Frate, una mia carissima amica e a voi giornalisti. Maria aspetta un sussidio dal Comune che in una nota ha fatto sapere di essersi interessato al problema. Un tetto, è la cosa più bella, magari un lavoretto che possa andare... Donato Frate, responsabile del movimento Difesa del Cittadino, ha ribadito l'impegno dell'associazione sul territorio. Le iniziative dell'associazione sono sempre quelle a tutela delle problematiche sociali, quindi interventi sulle fasce deboli e su tutto ciò che rappresenta il sociale. E in più un concerto sempre con il nostro socio fondatore e membro del direttivo, Gio Bavota, contro la violenza sulle donne, a breve, ultima decada di dicembre, prima decada di gennaio.